Come ha creato le dimensioni di questo soggiorno rispetto alla statua di Cristoforo Colombo? Il colombus è circa 4 metri. Il colombus è circa 4 metri. Il colombus è circa 8 metri a 9 metri. E c'è un ruolo. Il colombus è circa 4 metri. Il colombus è circa 8 metri a 9 metri. E c'è un ruolo.